Ciao, oggi parliamo delle persone razionali. Cerchiamo di capire meglio chi sono le persone razionali, questo gruppo di individui che spesso viene definito anaffettivo, freddo, robotico. Comunque si usano degli appellativi che sono decisamente giudicanti, negativi, svalutanti nei confronti di persone che hanno un modo di gestire le emozioni diverso dalle persone sensibili diverso dalle persone egocentrate. Le persone razionali sono un tipo, una tipologia di persone che descrivo nel mio libro Piccole Ferite Grandi Rinascite, dedico la seconda sezione del libro proprio a queste, e ne descrivo gli schemi disfunzionali, gli schemi equilibrati, gli schemi di successo. Qui in questo video ti parlo in generale delle persone razionali. cerchiamo di capire meglio a cosa mi riferisco. Allora, quando si parla di razionalità, di persone razionali, solitamente ci si riferisce a quelle persone che tendono a non mostrare facilmente le loro emozioni. Quindi non sono persone che condividono facilmente le loro emozioni e talvolta sono anche persone che hanno difficoltà nella gestione delle emozioni, nel riconoscimento delle loro emozioni. Sono quelle persone che quando parlano di un disagio solitamente riferiscono come zona del corpo all'interno della quale percepiscono questo disagio la testa. Cioè fondamentalmente ti dicono, si guarda ma è più una questione mentale che fisica. Ecco, questo perché hanno come centro di comando la razionalità. e il centro di comando della razionalità è la nostra testa. Per l'esattezza è la corteccia prefrontale, a quanto ne sappiamo fino ad oggi. Ovviamente dobbiamo capire che le persone razionali hanno delle emozioni come tutti. Semplicemente quello che fanno è non comunicarle così apertamente all'esterno. Innanzitutto, come mai vengono giudicate fredde? Vengono giudicate fredde per il semplice fatto che nella comunicazione non danno grande spazio all'emotività. L'emotività viene trattata come una variabile, talvolta come una variabile che porta fastidio. Questo crea loro dei problemi, ne parlerò nel video. La persona razionale è una persona che quindi tende a tenere le emozioni dentro, quindi a gestirle in maniera autonoma senza mostrarle esternamente. Una persona che tende a non usare espressioni molto calde, una persona che tende ad affrontare tutto in modo logico e mirato alla soluzione di un problema. E questa in realtà è un'ottima risorsa, un'ottima risorsa perché permette di avere un'analisi delle situazioni come se ci fosse uno sguardo dall'esterno. Si dice in terza posizione percettiva. Ok? Questa espressione viene dalla fenomenologia di Husserl, è stata utilizzata ampiamente anche in psicologia, è utilizzata anche in PNL, le posizioni percettive sono tre, quella della razionalità è la posizione percettiva dell'esterno. Quando parlano delle situazioni se non riguardasse loro, come se stessero vedendo un film e dicono sì, allora è successo questo, ha reagito in questo modo. Ecco, hanno un approccio piuttosto descrittivo. L'approccio descrittivo è dovuto al focus che danno appunto alla logica. In un ragionamento logico il focus è sulle informazioni, quindi le persone razionali hanno un atteggiamento descrittivo dell'esperienza della loro vita, anche di quelle motive, perché danno importanza alle informazioni e inseriscono anche molte note di contesto. Cioè non si limitano a descrivere la loro reazione, ma descrivono una reazione all'interno di un contesto e quindi creano una narrazione all'interno della quale si inseriscono. Come se guardassero un film, in qualche modo, hanno questa caratteristica. Porsi in questo modo in terza posizione percettiva implica ovviamente un maggiore distacco emotivo e qualcuno potrebbe dire come è possibile che siano così fredde, logiche e razionali in qualcosa che le riguarda personalmente. Ecco, è possibile perché le persone che gestiscono in questo modo l'emotività sono spesso persone che sono state fin troppo sensibili in altri momenti della vita. E questa grande sensibilità ha generato loro un disagio. Un disagio perché non è stata accolta, non è stata capita, perché c'era un ambiente, una serie di situazioni che non consentivano una serena espressione, conoscenza, condivisione delle emozioni, anzi la loro emotività li ha fatti soffrire e hanno dovuto imparare a gestirla e hanno imparato a gestirla con la logica, la razionalità appunto. Hanno iniziato a guardarsi più dall'esterno, a cercare di capire quello che succedeva per trovare una soluzione a delle situazioni della loro vita e questo approccio poi lo hanno mantenuto nel corso dell'esistenza. Ovviamente esistono anche delle professioni, delle formazioni universitarie che predispongono a utilizzare maggiormente la razionalità. Un ingegnere, un geometra, un architetto possono avere questa caratteristica, un programmatore ha questa caratteristica solitamente anche per una questione di formazione personale, quindi in qualche modo devono adattarsi al loro lavoro, alla loro passione, a quello che fanno e quindi quella loro caratteristica viene in qualche modo forzata ancora di più. Ovviamente non tutti gli ingegneri sono razionali, freddi e rigidi, non tutti gli architetti, geometri, non tutti i programmatori sono così e questo quindi ci dice che cosa? Ci dice che esiste una componente educativa, ovviamente, cioè di apprendimento e una componente di adattamento. La componente di adattamento è quella diciamo più psicologica, è quella che ha a che fare con l'adattamento a un contesto affettivo all'interno del quale le emozioni si sono rivelate essere un pochino dolorose, un pochino troppo e questo quindi ha portato la persona a trovare un adattamento. Come faccio a stare in questa situazione sentendomi bene? Uso la razionalità, la logica e quindi iniziano ad utilizzare questa risorsa, la allenano, per questo motivo tendono a sviluppare un'intelligenza logico-matematica più accentuata, per questo motivo tendono ad orientarsi maggiormente verso un certo tipo di discipline, per questo motivo tendono poi ad avere questa visione dall'esterno che li porta a percepire un po' meno le sensazioni e le emozioni del loro corpo e quindi a essere giudicati anche male dagli altri. Nella realtà dei fatti le persone razionali sono persone che hanno la tendenza a concepire le situazioni come un problema da risolvere, cioè se tu ti appoggi emotivamente ad una persona razionale troverai qualcuno che ti aiuterà a trovare una soluzione, qualcuno che ti darà dei consigli più che l'ascolto empatico. Perché? Perché l'emotività è una cosa che la persona razionale non condivide facilmente, anzi che sente fin troppo, quindi avverte l'esigenza di in qualche modo contenerla e è orientato, ti proporrà il suo modo di affrontare le cose, quindi un modo orientato alla soluzione fondamentalmente, che è una risorsa. Ovviamente in alcuni casi abbiamo bisogno di essere ascoltati, quindi magari ci rivolgiamo all'amico più sensibile, però le persone sensibili ne parlo in un altro video. Ecco, la questione qual è? Che queste persone vanno incontro a dei problemi con l'emotività diversi da quello delle persone sensibili e delle persone egocentrate, le altre due categorie che trattano il mio libro Piccole Ferite e Grande di Nascite. La questione qual è? È che la persona razionale ha bisogno di gestire le sue emozioni, quindi quando avvengono delle situazioni che per qualche motivo tirano fuori queste emotività, ecco che improvvisamente la persona razionale si sente sovrastata, più facilmente sovrastata della persona sensibile, che invece è abituata a provare intensamente queste emozioni. Ecco, e quindi la persona razionale sentendosi in qualche modo sovrastata è come se si sentisse di impazzire, di perdere il controllo. Solitamente il processo è così, avviene qualcosa che mi scatena una forte reazione emotiva, è fuori dal mio controllo, ho la sensazione di perdere il controllo perché su quella situazione non ci posso agire direttamente, non trovo la soluzione, quindi la mia strategia privilegiata non funziona. Poi ho questa percezione di emozioni così forti e difficili da contenere e la mia tendenza qual è? La mia tendenza è quella di andare incontro, di pensare che sto perdendo il controllo e quindi di tra virgolette impazzire. Ecco, quali sono i modi per invece gestire questa situazione? Ecco, una persona razionale ha bisogno sicuramente di considerare le emozioni come elemento centrale nella propria vita. Sappiamo perfettamente che l'emotività è proprio l'elemento, è il decisore finale, il decisore finale che ti permette di prendere appunto una decisione, di operare una scelta. Tu puoi operare una scelta soltanto se consideri la componente emotiva. Quindi una persona razionale con una finestra di tolleranza emotiva troppo ristretta, la finestra di tolleranza emotiva è una metafora usata da Daniel Siegel, introdotta da Daniel Siegel nel mondo della psicologia, che cosa dice? Dice che ognuno di noi, in base alle sue esperienze, la genetica e tutto quanto, è una finestra di tolleranza emotiva, cioè è in grado di tollerare certe emozioni che ti spingono verso il basso e emozioni che ti spingono verso l'alto all'interno di una certa finestra. Le persone razionali in questa finestra ce l'hanno più bassa. Quando le emozioni escono fuori dalla finestra di tolleranza emotiva in una direzione nell'altra c'è questa perdita di controllo personale. Quindi riuscire a riconoscere meglio quelle emozioni, gestirle meglio, allarga la finestra di tolleranza emotiva. Questo è un aspetto importante. Altri aspetti importanti nelle relazioni. Cosa succede quando una persona razionale si relaziona con una persona che è sensibile? Molto spesso le persone sensibili ricercano persone razionali perché si sentono compensate all'interno del rapporto. Le persone razionali cercano persone sensibili perché si sentono compensate all'interno del rapporto, quella cosa che gli manca. Quello che poi non fa funzionare il rapporto è la mancanza di, come dire, contaminazione positiva reciproca. Cioè il fatto che poi la persona sensibile prenda questo aspetto razionale e che la persona razionale prenda l'aspetto della sensibilità. Perché? Perché un'eccessiva sensibilità viene vissuta la persona razionale ma è troppo forte, quindi la mette fuori. Ecco, la persona sensibile percepisce all'incontrario un'eccessiva razionalità come qualcosa di troppo freddo e quindi tende a metterlo fuori. E poi questa contaminazione positiva non avviene e sul medio e lungo periodo può esserci quella sensazione di non essere capiti, di non andare d'accordo con le piccole cose che ti fanno pensare che le cose non funzionino correttamente. Ecco, come si può ovviare a queste cose? La persona razionale deve prendere atto che la sensibilità è una variabile imprescindibile nella vita. Non si può fare finta che non esista l'emotività. L'emotività è una variabile imprescindibile. Ogni decisione presa senza tenere in considerazione adeguata la componente dell'emotività è una decisione che poi è destinata a rivelarsi sbagliata, sofferente, stressante. Comunque controproducente. Ecco, quindi la persona razionale deve accettare l'idea che ha questa caratteristica di gestione emotiva che va un po' modificata, ampliando quella finestra di tolleranza emotiva. La persona sensibile, dall'altro canto, deve prendere atto del fatto che un'eccessiva sensibilità ti porta a uscire un po' troppo spesso da quella finestra di tolleranza emotiva e a non considerare tutta una serie di variabili di contesto che invece sono importanti. Quindi la razionalità deve servire a mitigare un po' questa grande sensibilità e bisogna che venga in qualche modo presa in considerazione come un elemento fondamentale per prendere delle decisioni e per gestire anche la propria emotività. Quindi queste due componenti, se all'interno della coppia vengono prese in considerazione, allora si assiste a quella contaminazione positiva che soddisfa le aspettative e il bisogno, conscio o inconscio, di entrambi i partner di compensarsi. Questo è un elemento fondamentale. Ed è un elemento fondamentale anche sul lavoro. Perché sul lavoro? Perché nell'ambito delle relazioni tra colleghi la persona razionale, avendo difficoltà nella condivisione emotiva, e siccome le emozioni si provano più spesso quando siamo in compagnia di altri, cosa tenderà a fare? Tenderà a scegliere, a prediligere lavori in solitaria e a lavori che può svolgere da sola e avere meno rapporti possibile. Questo però ti fa mancare degli aspetti importanti di soft skills che poi anche per la carriera sono fondamentali e porta a sottostimare l'importanza delle emotività nelle decisioni delle persone. Anzi, alle volte a giudicare negativamente le emotività, perché il contesto professionale è un contesto che si presta di più alla razionalità e quindi la persona razionale dice, eh no, ma allora questo tipo di cosa non va bene. Ecco, bisogna che le persone non prendano in considerazione la loro emotività e che gestiscono meglio le emozioni. Non è così che funziona. Le persone sono molto emotive, sul lavoro sono estremamente emotive, le persone non hanno un training emozionale alle spalle, di conseguenza le emozioni sono fondamentali ed è importante che una persona razionale impari a considerare questo aspetto negli altri come elemento di apprendimento, come elemento ostativo che impedisce quindi il lavoro di squadra. L'apprendimento delle soft skills per una persona razionale è più importante rispetto a quello di una persona sensibile, per esempio. Vediamo un altro tipo di rapporti, il rapporto della persona razionale con la leadership. Molti leader, si dice, hanno una visione, sono persone più egocentrate. Ecco, la leadership è più comune e quella più egocentrata, cioè quella dove il leader fondamentalmente si fa carico, porta avanti se stesso per portare avanti il gruppo. Ecco, queste persone egocentrate tendono a essere persone che danno un grande valore alle loro ambizioni, ai loro obiettivi, ai loro progetti, quindi tendono a fare il passo più lungo della gamba e poi adattarsi strada facendo. La persona razionale questo lo vede male perché dice, no, accidenti, ma questa questa persona non progetta, non programma, non fa le cose pensando seriamente a quelle che possono essere le conseguenze. In realtà è un altro modo di affrontare le situazioni. La persona razionale dovrebbe imparare da questo tipo di esperienza a uscire anche fuori dalla propria comfort zone dove si sente un po' meno sicuro, sicura, dove non ha il controllo di tutto quanto, perché l'elemento del controllo per le persone razionali è molto, molto importante. Per oggi la questione sulle persone razionali finisce qui. Fammi sapere se questo video ti interessa. Un caro saluto. Ciao.